La sfida della ventiseiesima giornata al Tomolini di Martinsicuro è quella che va in scena tra Alba Adriatica e Paterno, i locali a caccia degli ultimi punti per la matematica salvezza, gli ospiti imbattuti nel nuovo anno all'inseguimento delle posizioni a ridosso della capolista Giulianova. Ma la sfida è subito in salita per la squadra di Torti, un'indecisione in uscita consente a Florimbi di innescare la velocità di Simone Miani che poi non lascia scampo a Cattafesta che può solo sfiorare. 1-0 Alba Adriatica risponde il Paterno con questo colpo di testa di Della Penna, non nuovo ad inserimenti di questo tipo, poi Lepre scalda i guantoni di Spinelli, ancora Della Penna al ventiduesimo, buon palleggio, poi tiro che finisce alto sulla traversa. E' il momento migliore del primo tempo per la squadra ospite marsicana, se ne va in bellissimo stile Lepre che poi conclude di destra, botta sicura, miracolosa la risposta di Jari Spinelli sul seguente calcio d'angolo, ancora Lepre tutto solo riesce con una perentoria incornata a portare la sua squadra sul punteggio di 1-1. Vuole chiudere in avanti il primo tempo la squadra di De Eugenio e riesce a riportarsi in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, respinge Cattafesta, bella la botta, volo di Foglia che trova tutto solo sul secondo palo Simone Miani che sigla sua doppietta personale, proteste degli ospiti ma dalle immagini sembra proprio che Miani sia tenuto in gioco dalla linea difensiva marsicana. Paterno è una squadra di carattere, se ne va Giglio, palla in mezzo, non arriva Lepre, sciupa tutto Franchi da posizione favorevolissima, l'Alba punisce al quarto d'ora della ripresa, Foglia rifinisce per Miani che scaglia un bolide di sinistro alle spalle di Cattafesta. Tre a uno, grande festa per i padroni di casa. Paterno gioca una buona gara, soprattutto tante trame offensive per la squadra di Torti, va vicina più volte alla rete del tre a due. Anche l'Alba sa pungere come in questa occasione a vendita al termine con il solito Veccia che chiama in causa un superlativo Cattafesta in angolo. Il tre a due arriva a quattordici dal termine, azione furibonda della squadra ospite conclusa con Della Penna che riaccende con il gol del tre a due. Le speranze del Paterno, finale gestito ottimamente dalla squadra di De Eugenio, esce tra gli applausi, standing ovation per Simone Miani, finisce tre a due per l'Alba Adriatica. Tre punti pesantissimi, salvezza praticamente raggiunta. Paterno che deve invece sistemare qualcosina se vuole ambire a posizioni di vertice. Eccoci con il mister Torti, è arrivata una sconfitta qui sul campo dell'Alba Adriatica. Mister, tanti errori, tante amnesie nel reparto arretrato, non ve le potete permettere. No, al di là di quello bisogna dare pure merito all'Alba Adriatica che ha fatto una buona partita, ci ha creduto più di noi, ha fatto meno errori rispetto a noi. Noi abbiamo fatto errori di disattenzione grossolane che di solito non commettiamo. Abbiamo fatto errori tecnici in uscita che abbiamo permesso, sapevamo che loro giocavano molto bene sulle ripartenze e di fatto abbiamo preso il primo gol e il terzo gol su due errori in uscita. Tecnicamente non si possono fare questi errori, di solito non li commettiamo. Però ecco, la partita poi abbiamo cercato di rimetterla in sesto, alla fine ha vinto la squadra che ci ha creduto di più. Mister De Eugenio, allora, è arrivata un'altra vittoria, non so se è la più bella, ma forse è una di quelle che danno maggiore soddisfazione. Sì, per molti motivi e soprattutto perché ci dà continuità nelle prestazioni e nei risultati di questo periodo in cui in sei partite abbiamo perso forse la gara giocata meglio quella a Montorio e quindi sono molto contento. E poi abbiamo giocato con molti giovani, oggi Capocasa all'inizio un altro 2.000, a Montorio 99 Passamonti. Questi ci danno delle grosse soddisfazioni questi ragazzi e quindi siamo doppiamente contenti.